Salve, dopo la richiesta di un utente adesso farò un video tutorial su come giocare sulla Xbox One con un controller PS3. Allora, la prima cosa che bisogna fare è andare su questo link che metterò in descrizione e scaricare questo programma scpserver salviamo file ok allora, andiamo ad aprirlo specialmente se apriamo questo programma, la cartella zippata andiamo a cliccare su bin andiamo a scaricare i driver scp driver x e installa ok, exit no adesso scp server x e andiamo a inserire il nostro joypad e vediamo che lo riconosce immediatamente e adesso vi faccio vedere che se vado sull'applicazione xbox già lo possiamo vedere che appunto il controller funziona adesso vado a connettermi a fare uno streaming con la mia xbox grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora per averlo sempre a portata di mano consiglio di creare una nuova cartella nuova cartella e chiamarla non so e bs3 controller la chiamerò e ci vado a estrarre tutto in download bs3 controller ok allora dato che ogni volta che mi servirà usare il controller dovrò far partire appunto questo programma allora mi creo un collegamento cliccando su scp server col tasto destro creo un collegamento sul desktop avrete sempre il collegamento qui a portata di mano e quando vi serve basta aprirlo e connettere il vostro controller vi ringrazio per la visione vi invito a mettere un mi piace e ad iscrivervi alla mia pagina se vi è piaciuto il video e ci vediamo per un prossimo tutorial arrivederci ciao